delle grandi difficoltà che stanno attraversando le aziende, i lavoratori, in particolare quelli autonomi, i liberi professionisti. Siamo perfettamente a conoscenza degli enormi sforzi che sono stati fatti per adeguare e riorganizzare i tempi, gli spazi e i luoghi di lavoro. L'esperienza di questi mesi ci ha anche dimostrato che tutelare prioritariamente la salute consente di difendere meglio, più incisivamente, il tessuto produttivo del Paese. Ho visionato anche i risultati dell'indagine che avete reso noto tramite la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Condivido ovviamente la crescente preoccupazione per l'aumento dei contagi a cui stiamo assistendo in questi giorni in tutta Europa e ovviamente anche in Italia.